Un elemento fondamentale senza cui non posso stare sono gli occhiali da vista. Da una decina d'anni sto peggiorando un pochino, quindi per le operazioni fondamentali della mia giornata come leggere, guidare, eccetera, eccetera, gli occhiali li devo mettere. Questo oggetto è altrettanto importante, è il guinzaglio del mio cane Kalel, che oggi è a casa a riposarsi con la gatta, ma che è sempre con me, anzi è proprio dentro la borsa. Grazie.